Oggi abbiamo fatto un laboratorio con i bambini che partiva però da una lettura particolare, la lettura di Tarari Tararera e poi quella di Piribubibi che è il seguito di Tarari Tararera ed è un libro scritto in una lingua inventata, quindi chi lo legge ai bambini si deve soprattutto divertire, deve giocare con loro, deve avere voglia di raccontare. Questo racconto, questa musicalità della voce di chi legge ai bambini è molto stretta parente con la musica e molto stretta parente delle intenzioni di libro orchestra, questo festival itinerante che vuole portare appunto ai genitori e ai bambini il piacere di trasmettere la voce, la musicalità della voce, l'armonia dello stare insieme, la conoscenza della musica e della lettura, questa è la forza di libro orchestra. Il laboratorio consisteva nel mettere in armonia i colori e costruire dei personaggi come Piribubibi, quindi di nuovo siamo alla parola armonia, qualcosa che è una cucina unica tra musica e letteratura e illustrazione e questo credo che sia un festival unico in questo senso. Il libro orchestra è un festival itinerante nazionale che nasce tre anni fa, siamo al nostro secondo appuntamento su Sulmone, il secondo anno, è la fusione fra la lettura, il valore della lettura e il valore della musica. Tutti noi sappiamo leggere, tutti noi sappiamo leggere, sarebbe così bello che tutti noi potessimo parlare di musica, sapessimo leggere le note, potessimo sapere che la musica è entrata nella nostra esistenza e ha dato un valore aggiunto al nostro ascolto verso l'umanità. Questo è il libro orchestra, è un viaggio verso le persone, verso la relazione, portando al centro l'espressione musicale nell'esistenza della vita. Ricordo a tutti l'ultimo appuntamento di domani qui a Sulmona, faremo, e questo lo leggo perché voglio essere ben precisa, saremo alla sala azzurra della camerata musicale sulmonese alle ore 17 per questo appuntamento di incontro, una tavola rotonda dal titolo La musica incontrata è l'espressione dell'esistenza nella vita e nelle persone. Dopo otto mesi di film, la tavola rotonda è aperta a tutta la cittadinanza, è aperta a educatori, insegnanti, musicisti, artisti, a tutte le persone che desiderano condividere questo cammino di libro orchestra e anche con uno sguardo verso il futuro.